segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te purtroppo non posso apparire in video perché in azienda creano problemi a chi si espone è già successo a colleghi in passato che comunque hanno pagato pesantemente il fatto di esporsi il problema più sentito sicuramente dagli autisti è quello che abbiamo un servizio che è veramente scadente in questa azienda è carente di mezzi è carente spesso e anche di organizzazione e questo problema crea un malumore nei cittadini nei nostri confronti le linee che interessano delle scuole diventano ancora meno gestibili di una linea normale chi ti filma chi ti stica chi ti provoca è una condizione particolarmente difficile in qualche misura si è venuto incontro a queste nostre necessità utilizzando le vetture con cabina blindata ma il tema della sicurezza è un tema nazionale ogni lavoratore ha il diritto di andare a lavorare nel pieno della propria sicurezza altrui e del personale che trasporta in questi giorni c'è stata l'ennesima visione appunto ad un bigliettaio un agente di stazione che aveva cercato di fermare delle persone che non hanno il biglietto all'entrata della metro e è stato spintonato nella caduta si è mi sembra fratturato un braccio tutti quelli che sono a contatto con con i cittadini e con l'utenza rischiano abbiamo avuto in passato anche eventi abbastanza tragiche anni fa era una semplice di perdita di corretta stradale sono a casa con un occhio vero allora onorevole